Il piccolo leone sta crescendo Fedez e Chiara Ferragni entusiasti, il piccolo leone sta crescendo Chiara Ferragni e Fedez addobbano in anticipo la casa per le vacanze di Natale. Chiara Ferragni e Fedez sono sempre più felici per l'arrivo del piccolo leone. A rivalare il nome del nascituro è stata la famosa fashion blogger postando una foto sul suo profilo Instagram qualche giorno fa. Nella foto Chiara ha mostrato con molto orgoglio il suo pancino cresciuto ancora un po', scrivendo pancino leoncino. Al nord in questi giorni sta nevicando, così Fedez ha creato una bellissima atmosfera natalizia nel loro appartamento di Milano. La coppia sembra davvero emozionata nel vedere la casa addobbata in anticipo per festeggiare le vacanze natalizie insieme. . La Ferragni ha postato alcune storie su Instagram, nel loro salotto è possibile vedere un bellissimo e raffinato abete bianco. . Di certo, il regalo più bello del prossimo Natale della coppia è la gravidanza della fashion blogger. . Per Leone Babbo Natale è arrivato in anticipo a portare doni. . A quanto pare, per il piccolo Leone Babbo Natale è arrivato con largo anticipo. . Dalle story di Instagram della Ferragni si vede infatti un tavolo pieno di doni per il bebè in arrivo. Chiara Ferragni e Fedez ultimamente sono sempre in vena di far festa, tra motivi personali e professionali i due continuano infatti a festeggiare. . . È proprio un momento fortunato per Fedez, il quale sta anche festeggiando il successo dell'ultimo singolo con i lungax sconosciuti da una vita, diventato già disco d'oro. .